Io ho perso vent'anni a cercare qualcuno che mi dicesse ti faccio la garanzia, senza sapere poi il lavoro. Qui oltre alla garanzia ho avuto un lavoro ad hoc. Salve a tutti, mi chiamo Bulla Giuseppe Eros, ho 61 anni e sono qui in Moldavia, la clinica SOS Turismo Dentale o Bocca Bionica o come si vuole chiamarla, e voglio raccontarvi il mio percorso, cosa mi ha portato qua e il risultato finale qual è. Allora io ho avuto dei problemi, parliamo di vent'anni fa, quando ho avuto un eccessivo consumo di denti perché soffro di buxismo e ho incominciato a guardarmi in giro e il guardarmi in giro non è stato solo in Italia, sono andato addirittura all'estero, in cliniche americane, in cliniche domenicane, per sapere il loro parere. Alla fine il lavoro era sia americano sia dominicano sia italiano nella stessa forma. Mi dicevano che bisognava fare in un certo sistema perché io me li stavo consumando, stavano diventando troppo sottili e l'intervento che volevano fare per mettermi a posto era comunque una protesi che copriva quello che mi rimaneva, ma non mi davano garanzia sulla durata del lavoro in tutti i luoghi che sono andato. Qualcuno mi ha parlato addirittura di impianti, facciamo questo, facciamo un impianto per poterlo fissare bene, coprendo quello che è rimasto. Sì, ma la garanzia? Niente garanzia, tu hai uno schiacciamento troppo levato, mi rompi i perni, mi rompi i ponti. Le scuse erano sempre quelle, scuse, almeno a quel periodo era così. Quindi ho tenuto duro per parecchi anni. Quindi, come penso la maggior parte delle persone lo fanno, su internet inizia a cercare. Nel momento che cerchi uno, cerchi l'altro, entrano tutti. Casualmente, nella mia navigazione, incontro questo SOS turismo dentale. E qui mi viene da ridere perché dico, dottor Palmas, questo è spagnolo, io parlo spagnolo, posso andare da lui a vedere. Quando poi ho scoperto che in realtà è sardo. E niente, mi metto in contatto, mi dicono di mandare la panoramica, che mi avrebbero mandato poi un paio di preventivi. E così faccio. Il dottor Palmas mi manda un video dove mi spiega la mia situazione, che io già conoscevo, ma lui me l'ha detta ancora a lettere perfette. E ho deciso di venire. Ho sempre in contatto con chi c'era in quel momento, che parlava con me. Gli ho detto, io vengo ma senza impegno. Vengo perché voglio che mi vedano fisicamente e mi valutino la mia situazione. Ma vengo soprattutto perché voi mi garantite a vita il lavoro. Al tempi, quattro anni fa, cinque anni fa, si chiamava premium. Ed era garantito. Sono venuto. Ho fatto la panoramica un'altra volta qua in tridimensionale. Mi hanno fatto sedere nella sala convegno. Mi hanno aperto il mio video. Mi hanno spiegato la mia situazione. Mi hanno detto le due, barra tre soluzioni che potevo fare. Io, restando un po' basito da tutta questa perfezione nel spiegarmi le cose, gli ho chiesto cosa consigliate voi, cosa mi dite di fare. Il nostro consiglio è questo. Però devi scegliere tu. No, se voi consigliate questo, io faccio questo. E da domani sono pronto a partire. E sono partito. Io posso però dirti una cosa, con certezza. In tutti questi anni ho avuto tre chirurghi e due protesisti. Di tutte queste cinque persone che ho avuto, non ce n'è una che non è stata eccellente. Ho avuto anche questa fortuna. Non ho avuto sempre lo stesso dottore o lo stesso chirurgo. E quindi mi rendo conto che qui il personale è qualificato dal primo all'ultimo. Tutte le persone, che tra l'altro sono giovani, prendi ad esempio l'ultimo, posso fare il nome? Certo. Eugenio. Ragazza giovane, ma con una velocità di intuizione incredibile. Una mano rapida. Si accorge dei problemi ancora prima che tu gli possa dire, guarda che è stato molto positivo. Prima ero con, aiutami che non mi ricordo. Adrian. Adrian, ecco, Adrian. Con Adrian c'era feeling. Perché Adrian era come un libro aperto. Quando ti guardava due volte in bocca tu gli chiedevi cosa c'è che non va. No, non ti preoccupare, c'è qualcosa che non va. Perché quando tu guardi due volte c'è qualcosa che non va. Ed eravamo un po' più diretti. Ma ho scoperto questo ragazzo, Eugenio, capace, qualificato, svelto, rapido. La mia vita mi ha cambiata. Dopo aver fatto tutto. Così è cambiata. È cambiata che finalmente c'è tutta la mia bocca. Forse è la mia bocca. Non mi ricordo più neanche la vecchia. Io parlo di voi costantemente, con chi me lo chiede e con chi non me lo chiede. E ho dato tantissimi. Vi faccio pubblicità ma non perché voglio fare, perché sono sicuro che non sbagliano se vengono qua. Non sbagliano. Io ho perso vent'anni a cercare qualcuno che mi dicesse ti faccio la garanzia. Senza sapere poi il lavoro. Qui, oltre alla garanzia, ho avuto un lavoro ad hoc. Cioè, non premium, forse ancora più alto del premium. Superior. Perché, ad esempio, l'altro ieri, quando mi hanno messo tutto a posto, come ho chiuso la bocca, non ho sentito niente, né un piccolo, cosa che mi desse fastidio, come se già fosse la mia da tempo. In realtà è così. Mi piace, mi piace questa cosa. È stata positiva. Positiva. Non abbiano paura di venire a soffrire. Ne vale la pena. Ne vale la pena. E poi, ti ripeto, erano 27.000. Io ho fatto tutto con 10.000. 12, compreso i viaggi. Cioè, vogliamo scherzare. Ed è un lavoro garantito. La cosa più fondamentale che mi interessava. Qui hai un lavoro fatto bene. Non lo paghi come dovresti pagarlo in qualsiasi altra clinica italiana. Perché parliamo quasi di un terzo, all'incirca. Ed è garantito da subito. Non che prima ti fanno il lavoro, poi te lo garantiscono. Te lo garantiscono ancora prima di iniziare. Quindi che si facciano forza. Chi ha dei dubbi, e ne vedo tanti, nelle vari commenti. Dubbi è giusto che ci siano, ma venite. E non siete obbligati a venire e a farlo. Venite prima a vedere. Io in quattro anni ho visto cosa è cambiato qua. Dalla clinica di là, a quella di qua. Al laboratorio che c'era prima, che adesso è andato da un'altra parte. Qua c'è un evolversi di tecnologia, di personale, sempre qualificato. C'è proprio una cosa mirata ad avere la perfezione e le cose migliori. Per poter fare il lavoro che si fa. E questo è il lavoro. Grazie mille. Grazie a tutti.